ciao a tutti e ben ritrovati qui da mantova siamo in zona zanzare lungo non è il fiume zanzara allora ecco sentite ecco no non si sente comunque diamo un benvenuto caro luca io gianluca e luca con questo effetto fumo che ci sta venendo dalle zanzare c'è una zanzara grande benvenuto allora questa giornata siamo qui presenti anche quest'anno importante io faccio finta di non vederlo la giornata delle idee che cos'è dunque la giornata delle idee assolutamente no è un evento a cui radiosai partecipa ormai per siamo al quarto anno di partecipazione loro sono presenti invece qui da dieci anni questo scusa nove anni questo è un anno ed è interessante perché avremo modo di conoscere farvi conoscere le idee le idee delle persone degli partecipanti a questa bella festa che ogni anno si svolge qui a mantova e siamo sul lungomare lungo lato maggiore lungomare veniva perché sembra anche è anche un fiume il vincito però la siamo stare siamo ancora disquisendo dal punto di vista geografico quello che però faremo oggi caro gianna e insieme chiaramente anche a spettatori e a chi vorrà anche iscriverci ricordiamo che le chat sono sempre aperte quindi anzi scrivete 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 perché potete appunto andare in onda interagire con noi direttamente anche con e lo stavi per dire appunto gli ospiti che avremo con cui faremo le chiacchierate e cos'altro dire gian se non accompagnateci in questa bellissima giornata di festa speriamo che saio non faccia i suoi interventi come avete visto poco anzi perché anzi la giornata sembra promettere bene ma molto bene e poi anche molto interessante perché qui ci sono varie esposizioni ed esposizioni ed espositori che appunto possono esibire le proprie idee adesso sta anche andando in diretta non possiamo girarvi la telecamera lo farei anche più tardi non più tardi sono anche finito c'è un'esibizione di danza acrobatica ed è partita ufficialmente la giornata dell'idea di mantola 2018 a tra poco ciao ciao